Ciao a tutti, è estate, tempo di barbecue e di picnic, cosa c'è di più rinfrescante di una buona birra? Oggi vi consigliamo il piacere della birra, un viaggio entusiasmante nella storia della bevanda più antica di tutti i tempi, dalle tradizionali birre trappiste del Belgio ai più innovativi birrifici artigianali nel centro di Londra. Venite sui nostri social e raccontateci quale birra avete scelto per rinfrescare la vostra estate. Grazie.